Mi presento perché di solito non parlo io ma parla il mio amico Alessandro Lai. Sono Aurelien, sono coorganizzatore con lui del PHP User Group da un anno e mezzo e stasera abbiamo un ospite che è Davide che ci parlerà di API, poi lascio a lui ovviamente spiegare meglio. Colgo l'occasione perché per dire che ovviamente siamo sempre alla ricerca di persone per raccontarci le proprie esperienze legate strettamente o anche non strettamente al PHP e quindi se avete voglia di mettervi in gioco come ha fatto Fabio Pellegrini che è in questa chat o Davide stasera, contattatemi, contattate Ale e ci farebbe piacere accogliervi come speaker. A te la parola Davide. Buonasera a tutti, il titolo della presentazione di questa sera è come non fare o come fare impazzire chi consuma le tue API, dove racconto la mia esperienza in diciamo sei anni di trincea, mi piaceva questa immagine. Mi presento, io sono Davide, sono software ingegner, programmo da una vita ma diciamo che in maniera seria e a tempo pieno lo faccio dal 2014. Ho lavorato in OneBip fino al 2018 e poi sono andato in Easy Welfare. In OneBip ho integrato diversi operatori telefonici che hanno un certo insieme di problematiche sull'integrazione API. Io parlerò nello specifico della parte HTTP e affini, non mi soffermerò su altre tecnologie ultraspecifiche degli operatori telefonici. e dal 2018 in avanti invece mi sono occupato di integrare fornitori di gift card, servizi welfare e assieme a Fabio tra l'altro che ci ascolta quindi potrà confermare o smentire alcune delle cose che dirò durante questa presentazione. E quindi un ringraziamento al Pug Milano, in particolare Aurelien che mi ha seguito ed è qui che fa da host per la serata, ha curato anche la parte social e tutta l'organizzazione di questo evento. Allora, prima di entrare nel vivo io vorrei fare una premessa. Tutto ciò che vi racconto è la mia esperienza diretta. Non ha la pretesa di essere esaustiva. Ovviamente ogni informazione è strettamente personale, me ne assume interamente la responsabilità e non rispecchia l'opinione di alcuna delle aziende che andrò a citare. Quindi è strettamente personale. E in questa presentazione parlerò molto più di API che di PHP. La cosa di PHP sarà molto 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 limitata la parte di PHP. Quindi l'agenda è divisa in quattro parti. La prima parte dove parlo delle cose che io trovo fastidiose personalmente, che ho incontrato più frequentemente o diciamo di cui mi ricordo con più fastidio. Quindi non è un elenco esaustivo ma di tutte le cose che mi hanno dato fastidio in questi anni, queste sono quelle che mi ricordo di più. Quindi è una visione molto personale. Allo stesso modo ho pensato un elenco di alcune buone prassi e delle cose che io ritengo più importanti. Questo sempre come esperienza pratica e molto personale. La terza parte sono giusto due slide sulle considerazioni finali e poi diamo spazio a domande e risposte. Quindi cominciamo dalle robe fastidiosi, togliamoci prima il dente delle cose più difficili, che ci danno più noia. Allora, la prima cosa ovviamente è quando si ha l'utilizzo di HTTP in modo improprio. Per esempio richieste GET che causano effetti collaterali, confusione proprio sui metodi, cioè GET, POST, PUT, OPTIONS, HEAD, cosa sono. Un'altra cosa che ho visto di frequente è che erano usati per scopi completamente diversi dal previsto. In particolare, un esempio pratico è il classico script delete.php con un parametro in GET che va a cancellare record, oppure magari invertire la POST con la PUT, questo già è meno frequente, però magari fai la POST... A volte si usa, spesso si usa la POST però per modificare cose esistenti. Ora, quando si tratta di delle form non hai scelta perché il browser ti dà solo quei due metodi GET e POST. Quando si tratta invece di API, per fare una modifica, per modificare una risorsa che già esiste, è meglio usare PUT. Però a volte ho visto fare confusione di questi metodi. Ed è il momento della menzione speciale, scusate, menzione speciale. C'è un operatore telefonico di cui non farò nome, ma lascio un indizio su quale possa essere, che aveva un intero protocollo di comunicazione dove la documentazione diceva che c'erano dei parametri in POST e in realtà si trattava di header custom con tutti i dati del payload, quindi il corpo del messaggio inserito come intestazioni. Insomma, il signore lì che ha inventato il WW è un po' perplesso. Un'altra cosa fastidiosa e semplice da sistemare soprattutto, ne parlerò poi nella sezione successiva, sono le date senza time zone. Adesso questo già è un formato che assomiglia molto a ISO, però io qua mi chiedo, ora, questa data cos'è? È OTC? Oppure Europe Rom? Oppure è, che ne so, il fuso orario di San Francisco? Come faccio a saperlo? Posso immaginarlo da dove si trova il server, però non è una cosa così scontata. E questa è una cosa molto comune e che io trovo fastidiosa. E un'altra cosa molto molto importante è il discorso della semantica exactly once. Qua cerco di soffermarmi un po', poi nella parte successiva faccio anche degli esempi. Io devo mandare un messaggio, una post tipicamente, che causa degli effetti collaterali. Per esempio, facciamo un esempio, voglio ordinare un gift code per Amazon, ok? L'IPA di Amazon ovviamente è fatta bene, però immaginiamo che si tratti di un servizio diverso per gift code un po' meno pensato bene e io ordino un gift code. Facciamo un esempio concreto. Io faccio una richiesta, il server si trova sovraccarico, ok? Quindi io faccio la richiesta, la richiesta completa correttamente ma in 90 secondi, per esempio. Quindi immaginiamo un server mozzo carico, però questo server è dietro a un load balancer, per esempio un elastic load balancer di AWS. Cosa succede? Dopo un tempo predefinito, ipotizziamo che il tempo di timeout del load balancer sia inferiore al tempo di risposta del server sovraccarico, ci viene dato un bel gateway timeout, lato nostro abbiamo un errore, però in realtà l'ordine di questi codici, potrebbero essere anche delle scarpe o una pizza, però l'ordine di questo oggetto digitale è stato completato, però noi abbiamo avuto un errore. e spesso le API non ti danno nessun modo di verificare che la cosa sia andata veramente bene, quindi io riprovo e poi se si tratta di un codice digitale magari riesco a contrattarlo, a dire vabbè questo non è stato usato, per favore annullatelo, stornatelo, e quindi poi ci sarà una nota di credito, insomma una cosa che causa comunque del lavoro manuale, è un costo, e quindi a volte a fine mese si fa una riconciliazione. Nella parte successiva sempre proporrò appunto una soluzione. Un'altra cosa, questa è proprio tipica degli operatori telefonici, e qui visto che siamo oltre Alpe farò anche nomi, vabbè non so, posso fare nomi, un operatore francese che si chiama SFR, aveva un flusso redirect dove noi mandavamo l'utente su una pagina, allora finché il flusso arrivava in fondo, l'utente andava sulla pagina, pagava, tornava indietro, l'azione di caricare la pagina nel nostro sistema causava l'abbinamento dell'acquisto lato fornitore, cioè lato operatore telefonico con l'acquisto lato nostro nei nostri sistemi. Però se si rompeva qualcosa, poteva succedere che l'utente finale pagasse i soldi e noi non ricevevamo la chiamata HTTP perché era responsabilità del browser dell'utente, quindi ovviamente è qualcosa che si può rompere anche piuttosto facilmente. e quindi questo poi va a causare tutta una serie magari di lamentere dell'utente che giustamente si lamenta e quello che può succedere in questo caso è che c'è un po' una qualità del servizio inferiore percepita. Poi questa cosa un paio di anni fa l'hanno sistemato per fortuna. La cosa diventa particolarmente grave quando si tratta di un servizio in abbonamento perché si rischia veramente con questo tipo di protocolli di avere un utente abbonato che non riesce ad avere il servizio. E quindi sono parecchio restio a fare flussi redirect. Però ci sono dei modi molto più intelligenti, nel senso si può fare un redirect però la conferma non deve arrivare con il browser dell'utente ma deve essere il server del fornitore o dell'operatore a darci la conferma. Il che cambia radicalmente l'affidabilità del sistema. Perché anche se l'utente chiude la pagina e non torna da noi possiamo comunque riconoscere il fatto che abbia pagato dei soldi. Questa è una chicca. Qua proprio non posso fare nome dell'azienda, ho cambiato il nome di tutti i parametri e gli hostname, ho tolto qualsiasi riferimento all'EPA originale, ma ho cercato di mantenere il significato. Qua abbiamo un API che ha dei formati innestati. Abbiamo un primo livello di JSON con dentro un parametro che si chiama order lines che rappresenta le righe dell'ordine che è un formato molto 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 simile al CSV, cioè sostanzialmente è un CSV che però invece del carattere a capo usa il carattere pipe. L'idea che mi sono fatto è quella di una scarsa manualità con i framework di mapping automatico con JSON e non riuscire a fare più di un livello perché anche la risposta poi ha una particolarità. la risposta a questa chiamata che ovviamente io ho cambiato tutti i nomi dei parametri e ha, per esempio, in questo esempio qui ha 5 parametri però in realtà order lines e order links non hanno significato per questo tipo di endpoint quindi sostanzialmente la scelta che è stata fatta lato fornitore è stata quella di avere un API con un unico formato di risposta e 4-5 endpoint diversi che ritornano un oggetto che ha la stessa struttura, un singolo livello e i campi che non hanno senso per quella risposta impostati a null ma è una cosa che io trovo particolarmente fastidiosa ovviamente qualora in altre fasi del flusso si debba ottenere questo è comunque il sistema di acquisto di gift code più di un gift code quello che succede esattamente il CSV dentro al JSON anche in risposta nelle fasi successive del protocollo un'altra cosa veramente molto fastidiosa quando si iniziano a innestare così senza motivo i protocolli già sappiamo che SOP è un protocollo molto oneroso perché richiede HTTP che crea delle richieste abbastanza corpose perché viene richiesta l'esistenza di un documento un envelope, tutti i tag innestati e poi in realtà quello che si fa è un'interfaccia di caricamento dei file vi faccio un esempio una società di fatturazione anche qui non faccio nomi che ha un protocollo SOP che ha la bellezza di 4, 8, 9 fasi 9 primitive cosa succede? sostanzialmente io per inserire un'anagrafica dentro questo sistema una grafica che possono essere clienti fornitori, offerte, cose del genere devo innanzitutto avviare i nomi di questi metodi sono stati tutti modificati per evitare di risalire ovviamente all'API originale ma comunque il significato è esattamente lo stesso anzi ho reso i nomi ancora più parlanti ancora più significativi di quello che fanno quindi si fa partire una sessione di upload poi si va ad aprire il file in scrittura e ognuno di questi comandi è un messaggio SOP quindi abbiamo un protocollo SOP che mantiene delle risorse appese lato server quindi si avvia la sessione di upload dopo di che si apre il file XML in scrittura si inizia a scrivere si inizia a scrivere il contenuto del file si chiude il file si chiede al server ok processami questo file il server fa partire un processo separato e poi con un'operazione di check si va a verificare il risultato il fatto hai finito hai finito hai finito hai finito quindi si continua a chiedere se si ha finito l'elaborazione a questo punto quando si ha risposta affermativa del ok la diciamo la è finita la l'esecuzione di questo di questo processo posso ottenere la lunghezza della risposta immagino che in questo sistema si aspettino centinaia di migliaia di record perché altrimenti non si spiega o almeno decine di migliaia di record perché altrimenti non ha non ha molto senso e con get response content è possibile scaricare la risposta ovviamente se la risposta è molto lunga questa può essere frammentata in spezzoni in chunk ma alla fine di tutta questa storia si chiude la sessione di upload e insomma è una roba bella bella macchinosa dico questo sistema in altre parti ha un un formato che è posizionale adesso questo è un formato posizionale che mi sono completamente inventato però io penso che piuttosto che fare un protocollo SOAP con tutte queste fasi io credo che creare un file di test posizionale e caricarlo su FTP magari zippato sia una cosa molto molto più saggia cioè piuttosto che usare una tecnologia un po' più moderna in maniera così macchinosa scriteriata io ritengo che sia meglio tornare a tecnologie più semplici dice che poi tutto il concetto di trasferimento di file è proprio proprio di FTP non ci andiamo a inventare niente questi formati tra l'altro sono diffusissimi nelle grandi aziende soprattutto quelle che lavorano ancora con COBOL per dire OS400 un'altra cosa molto divertente cioè questa non è fastidiosa diciamo che questa mi ha fatto un po' sorridere non l'ho implementata io direttamente però facciamo un po' sorridere il fatto di andare a usare JWT che è un meccanismo che serve per generare appunto un token di autenticazione sta nel regno dell'autenticazione quindi io in un token JWT mi aspetto di trovare chi sono cosa faccio cioè cosa posso fare e per quanto tempo sono autorizzato a fare qualcosa al limite di sicuro non mi sarei mai aspettato di vedere un API che dice ok per autenticarti con me non mi passi un JWT che magari ti genero io no concordiamo una chiave comune e poi i messaggi che ci scambiamo sono dentro il payload del JWT quindi un meccanismo un po' curioso diciamo nemmeno troppo difficile da utilizzare però decisamente bizzarro per i miei gusti ok siamo già sto forse anche correndo perché siamo già alla terza parte quindi provo a rallentare un po' appunto io eviterei proprio soluzioni fantasiose perché comunque richiedono un certo sforzo mentale per capirle e ci sono soluzioni più standard più comprensibili più diffuse diciamo sebbene voglio dire questa qua funziona cioè su sta funzionando quella di JWT però siamo sicuramente piuttosto fantasiosi usare il SWOG mi sono reso conto e ho iniziato ad usarlo forse un anno e mezzo fa anche meno forse mi sono reso conto che anche nell'API che produco io e consumo io se c'è uno SWOG ti rendi conto di eventuali incoerenze nel design e quindi costringerti a documentare il design anche se a uso interno a documentare l'API con SWOG ti fa fare quello sforzo in più ti permette o se l'hai già fatto di dire cavolo ma qua potrei farle meglio se sono API interne hai margine per migliorarle oppure se le devi dare fuori comunque c'è uno sforzo in più insomma è uno strumento molto molto carino l'avevamo integrato nella pipeline quindi quando si pushava su master non è caricato in automatico sia in locale che in staging con Kubernetes riuscivamo a vedere queste definizioni in maniera live che si autogiornavano molto 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 bello anche il browser c'è il server che ti renderizza in maniera grafica HTML CSS il fatto la struttura dell'API permette la navigazione della documentazione sostanzialmente generata dalla definizione ecco questo è un esempio quando parlavo prima di semantica exactly once dicevo che una possibile soluzione io ne ho individuate due una che io definisco più di alto livello che consiste nel passare al fornitore il mio il mio ID locale dell'ordine così io mi aspetto che il fornitore non mi crei due ordini non mi crei due ordini a fronte di un ordine lato mio quindi per esempio effettuando una richiesta la prima volta io mi aspetto di avere un 201 created con la location della risorsa appena creata se io vado a ripetere la stessa richiesta identica con gli stessi parametri eccetera mi aspetto un 303 sia che comunque ha lo stesso header location dopodiché un altro accorgimento che io qua ho voluto rappresentare che è una nota margine in realtà quando si fa un API dove si acquista qualcosa per me è una buona pratica mettere il prezzo perché se io cliente concordo un prezzo col fornitore e il fornitore lo cambia senza preavviso io posso mettere un blocco che mi dice no tu questo prodotto 123 lo vuoi comprare a 5 euro io però ho aumentato il prezzo o l'ho messo in offerta e il prezzo non coincide più quindi costa di più costa di meno a seconda del caso però un check aggiuntivo sul prezzo e poi parleremo anche di modi di rappresentare gli importi diciamo mandare il prezzo di una cosa che io mi aspetto è sicuramente una buona pratica quindi ricapitolando 201 alla prima chiamata 303 alle successive se queste sono coerenti con la prima cioè con gli stessi parametri se io provo a creare due ordini dove prima ordino a tre mele e l'ordine successivo ordino a tre pere io rispondo 409 conflict e questo è l'esempio di alto livello un'altra possibile soluzione invece a livello di header ah dimenticavo in questo sistema ad alto livello se l'ordine fallisce io non vado a a riservare quelli di quelli di potrà essere usato in futuro ok invece quest'altro a basso livello l'idea è quella di fare un request id negli header tipicamente un id generato e quindi l'idea è crea un ordine se faccio più volte la richiesta qua mi sembra visto che non si entra nella logica di business dell'ordine mi sembra più facile più appropriato rispondere esattamente con un 201 created quindi potremmo proprio mettere uno strato davanti che si salva la risposta in una cache quindi dice mi aspetto con quell'header lì io ti ho risposto in quel modo lì e continuerò a risponderti in quel modo lì e questa è una possibilità però in questo caso in caso di risposta negativa poi è è un filtro un po' più un po' più staccato dal dominio quindi secondo me è meno efficace in questo caso il check si farebbe non interpretando i parametri dell'ordine ma proprio sul body della richiesta queste sono due proposte un po' ispirate a quello che ho visto in giro che faccio io personalmente sono più orientato a questa perché comunque fa entrare un po' il dominio quindi ti dico che per me l'ordine che ti sto facendo lato mio ha l'ID42 e quindi tu devi sapere che io non posso avere due ordini numero 42 e questa mi piace di più delle due onestamente di solito quello che vedo in giro è in realtà un misto delle due call e quindi poi ci sono strategie per rigenerare queste da implementare insomma questa mi sembra più robusta di tutte Amazon implementa questo implementa esattamente questo pattern qua non usa gli status code di HTTP usa dei codici sui interni però ti risponde sempre 200K in realtà se non sbaglio in un caso di successo no o forse no però comunque usa dei codici sui interni in aggiunti quelli HTTP visto che prima ho detto parlavo delle date mi lamentavo delle date per me esistono solo questi tre formati che sono il formato che in PHP si chiama Atom o RFC 3339 e quindi alla data anno mese giorno T come carattere di separazione diciamo che dice il tempo e ore da 0.24 due cifre minuti secondi e offset con i due punti in mezzo mi raccomando la versione estesa che include i millisecondi e poi la versione con i microsecondi non ha una costante in PHP ma il formato è questo qua a mio avviso sono gli unici tre formati possibili a meno che proprio non dobbiate effettivamente distinguere due time zone per questione di localizzazione con lo stesso offset sento un rientro sento un rientro c'è un sacco di gente e dicevo dicevo quindi a mio avviso i formati buoni sono questi qua cioè ISO 8601 attenzione che la costante ISO 8601 in PHP non rispetta lo standard ISO 8601 e quindi è molto molto controintuitiva come cosa però c'è scritto nella documentazione quindi la differenza è che mancano i due punti nell'offset è una piccolezza però è abbastanza sei di là hai qualcuno che che non è troppo lasco in quello che accetta non è ecco una una cosa che mi sono dimenticato di mettere è la legge di Postel cercare di essere un po' largo in quello che accetti è un po' più stringente in quello cui fornisci tu anche se devo dire che io sulle date sono molto rigido cioè o mi dai il formato Atom o io ti rispondo 400 o 422 ok per formattare gli importi non c'è un vero e proprio standard e quindi negli anni sono emersi delle proposte in realtà la prima è la terza la terza è un formato stringa proposto da un collega vediamo un po' se c'è collegato no non c'è allora non gli posso chiedere se lo posso nominare però vabbè un ex collega che ha proposto il formato stringa compatto facile da leggere per gli umani parlando con gli amici del frontend React si trovano molto meglio col primo formato quindi importo in intero mi raccomando guai usare virgola mobile quindi o interi o string quindi il primo formato è importo intero però la currency in codice ISO e poi la scala cioè dove metti il punto del del numero a decimali fissi lo metti in due posizioni questo è 10 euro e due centesimi un'altra possibilità che mi è venuta in mente dove immagino dei diciamo delle valute che non hanno i centesimi ma hanno monete solo da un quarto potrebbe essere avere un denominatore che che non è 100 ma è 4 e quindi rappresentare i quarti che non so se non ricordo male la sterline egiziana ha solo monete da un quarto però a livello legale comunque gli importi arrivano al centesimo quindi su alcune cose sono richieste di dirottondamenti però probabilmente non è non è a questo livello che si deve fare si deve fare dare la grana della risoluzione minima della moneta diciamo secondo me quindi personalmente ho utilizzato la prima e la terza opzione a seconda delle situazioni diciamo poi e i Toz e Hal devo dire che io li trovo molto belli molto piacevoli da vedere però forse anche un po' sopravvalutati nel senso che sarà perché sono abituato male con le pie che trovo in giro ma mi trovo bene anche senza se quindi dico prima pensate bene al design poi mettete i link è sempre bene metterli però mi raccomando date priorità al design del resto dell'API a mio avviso insomma mi sa che siamo verso la fine o che siamo alla terza parte che è quella del quel paio di slide sulle considerazioni finali quindi io penso che progettare una buona API non sia affatto semplice un buon esercizio può essere mettersi nei panni di chi le andrà a consumare a volte chi le consuma è anche chi le produce a me succede spesso di far parlare due sottosistemi che sono entrambi sotto il mio controllo quindi vabbè io sono produttore io sono consumatore in quel caso lì è molto facile immedesimarmi nell'altro però in generale immedesimarsi può funzionare gli odori più comuni secondo me sono evitabili tipo sconfondere get compost queste cose qui proprio di se si ha un minimo di conoscenza di rest non si possono fare questi errori sono da evitare e sono anche facili da evitare e un approccio possibile è quello dei miglioramenti successivi di non pretendere di avere l'API perfetta magari prima di rilasciarla provarla un po' internamente se è un'API pubblica se invece si tratta di un'API interna accettate il fatto dal mio punto di vista sempre che l'API perfetta non arriva subito e man mano che si va avanti ci possono essere delle iterazioni se lo fai interamente fai presto a diciamo devi avere un po' di esperienza perché devi riuscire a supportare temporaneamente due standard magari quando fai le modifiche però diciamo che se hai il controllo di consumatore e produttore è molto più facile Swogger può essere un modo per fare miglioramenti successivi avere un ciclo di feedback è una cosa che mi raccomando è di fare molta attenzione agli strumenti che io chiamo automagici perché è una cosa che succede spesso è una cosa che è successa ho visto succedere o meglio l'ho trovata lì in realtà avere magari un database legacy che è cresciuto velocemente male prendere l'ORM di turno che ne so doctrine e dire ok creami l'entità sopra questo database database che ha un design povero diciamo e cosa vado a fare prendo l'ORM e mi autogenero l'entità a questo punto quello che succede è va bene ho autogenerato l'entità prendiamo il Friends of Symphony REST bundle e ci mettiamo sopra l'API però così stai sostanzialmente esponendo un database che è chiamiamo diciamo storto e lo stai esponendo come API quindi attenzione 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 agli strumenti automagici come li chiamo io e si possono usare però è sempre meglio disaccoppiare in qualche modo quindi mi raccomando non fate la catena del database legacy e entità autogenerate e poi entità mappate su resource REST mi raccomando cercate di mantenere una certa distanza e soprattutto io sono un fan non solo delle risorse REST ma anche dei comandi che non è una cosa non è REST sono comandi è una cosa un po' diversa però li trovo molto utili e queste erano le considerazioni finali per i produttori adesso andiamo per i consumatori progettare una buona API non è semplice quindi mettetevi nei panni del fornitore e siete clementi quindi sto rigirando l'iscorso di prima però fino a un certo punto insomma male dire male dire i produttori di API quando le si consumano è a volte cosa buona e giusta perché ci viene da dire come ci vuole della fantasia fare le cose così male a volte poi per chi è familiare con il domain driven design sicuramente è un anti-corruption layer o comunque uno strato software che tiene lontano quella parte le terminologie i nomi delle API tenerli in uno strato software ben distanziato se è possibile soprattutto quando si parla nel settore del welfare spesso si ha a che fare da media impresa a media impresa almeno finché esigui il welfare era una media impresa adesso le dinamiche sono un po' cambiate però io non sono ancora entrato nel post acquisizione come dinamica però dicevo se tu sei una media impresa e negozi un API con una media impresa hai comunque spesso gente che ha la buona volontà di ascoltare quali sono le tue perplessità e a volte si riesce a ottenere qualcosa per esempio l'exactly once nell'API è quella che comunque continua a avere il CSV siamo riusciti a negoziare almeno un parametro aggiuntivo per avere l'exactly once talvolta però bisognerà assegnarsi a fine mese a fare l'elenco degli ordini quando si tratta di codici digitali che possono essere stornati facilmente se non sono stati consumati è facile però a fine mese vuol dire riconteggiare tutto non succede tutti i mesi è successo qualche volta e riconteggiare tutto vedere che magari squadrano 50 euro capire andare a indagare cos'è successo e dire ok questi due codici non sono ce li dovete annullare dico ok sì effettivamente non sono stati utilizzati te li annulliamo e ti mettiamo una nota di credito c'è un po' da rassegnarsi questa cosa comunque è un costo perché avere un API che non ti permette l'exactly once ha il costo poi di gestire visto che la cosa che vuoi fare è let list once ogni tanto devi andare poi a farti stornare le cose a mano in quel caso lì era ancora erano non mi preoccupava più di tanto perché erano molto molto diciamo aperti ad annullare anche a distanza di mesi le transazioni quindi a livello finanziario e di validità del codice quindi non mi preoccupava più di tanto però comunque è un costo perché poi ci sono i vari rimpalli tra i dipartimenti interni fatturazione a controllo e poi che passa la fatturazione di là rimanda indietro la fattura insomma la qualità comunque ti fa risparmiare a livello proprio gestionale quindi direi che vi ringrazio per l'attenzione e passiamo alla sessione di domande passo un attimo la parola a Aurelien che vuole coordinare la cosa aurelien 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 aurelien